Per la prima volta a Bella Ma, diretti dalla splendida direttrice Sabrina Simoni, i bambini del coro dell'Antoniano! Eccoli qui! Ciao bambini! Che bello! Che bello conoscervi! Proseguite l'applauso per loro! Ciao! Che belli che siete! E la direttrice Sabrina Simoni! Ciao Sabrina! Grazie per aver accettato il nostro invito! Io sono onorato, emozionatissimo! Su serio? Allora loro sono dieci componenti... Hai paura che ti faccia cantare? Io sono stonatissimo! Allora, i componenti del coro dell'Antoniano quanti sono? Noi siamo 57! Oggi vedete una rappresentanza del piccolo coro ma poi c'è una sorpresa! Attenzione! Allora, quindi voi siete dieci! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Vi presentate? Come vi chiamate? Camilla Camilla? Noa Noa? Nicola Nicola? Violante Violante? Gaia? Gaia? Raul Come? Raul Raul? Poi? Emiliano Emiliano? Vittoria Vittoria? Chiara? Chiara? Marica Marica, ho detto bene? Allora, il più piccolo o la più piccola, quanti anni ha? Sei tu? Raul, sì! Raul quanti anni ha? Sette Sette anni! E la più grande o il più grande quanti anni ha? Eh, undici! E chi è che ha undici anni qui? Marica! Ah, quindi siete diversi, eh? Eh sì, sono in cinque! Noi tra poco siamo talmente curiosi delle bellissime canzoni che cantate che avremmo voglia di farvi delle domande per sapere di più di voi, ma prima di farvi delle domande abbiamo voglia di sentirvi cantare. E so che ci saranno due momenti. Il primo momento si chiama mashup. Che cosa significa mashup? È un modo diverso per dire medley. Ok. È un insieme di tanti brani, ovviamente dei pezzetti, e sono certa che i pezzetti che canteremo li conoscete tutti. Quindi non siete scusati se non cantate. Allora, preparatevi a casa, perché si canta tutti insieme, preparatevi in studio, diretti da Sabrina Simoni, i bambini del coro dell'Antoniano, con la loro prima esibizione a Bella Ma! Il caffè della peppina non si beve la mattina, ne con latte, ne col tè, ma perché, perché, perché? Il caffè della peppina non si beve la mattina, ne con latte, ne col tè, ma perché, 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 perché? Ma perché? U la la la, u la la la, Questo è il balzer che fa la la la. Volevo un gatto nero, 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 Mi hai dato un gatto bianco, ed io non ci sto più. Volevo un gatto nero, 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 Siccome stai bugiando con te non gioco più. La 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 la. Oggi tutti insieme cercheremo di imparare Come fanno per parlare tra di loro gli animali. Come fa il cane? E il gatto? L'asinello? La mucca? La rana? La pecora? E il coccodrillo? E il coccodrillo? Oh, il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, Che con i denti funga, che molto spesso pianga. Però quando è tranquillo, come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si arrabbia ma non strilla, sorseggia camomilla, E mezzo addormentato se ne va. Avete capito come fa il coccodrillo? Lui mezzo addormentato se ne va. I bandini del coro dell'Antoniano. Che bravi, mamma mia. Guardate, tutti in piedi per il coro dell'Antoniano, mamma mia. Mamma mia che emozione, che emozione. Allora, Sabrina Simoni, che è una direttrice delicatissima, guardate la grazia di questa signora. La pazienza, la professionalità, l'amabilità. Allora, io so che in programma c'è un altro mashup. Ho imparato che mashup significa medley, ed è un modo di dire per spiegare che in tre minuti sono condensate tre o quattro canzoncine. Esattamente. Ne facciamo un altro? Volentierissimo. Ci siamo allenati a casa? Allora dobbiamo fare per magia un piccolo cambiamento di posizione. Facciamo il cambiamento? Mamma mia che bravi! Mamma mia! Voilà! Che memoria! Allora, a Bella Ma, diretti da Sabrina Simoni, i bambini del coro dell'Antoniano. Grazie! 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 E allora basta, dai, ma che problema c'è? Diventa donna fina, a tagliati lo stress I bambini del coro dell'Antoniano! Mamma mia, ma quanto siete bravi! Quanto siete bravi! Allora, facciamo una cosa Allora, in fila indiana andiamo di là Allora, guida la fila indiana Chi la guida? Gaia Gaia, preparati Guida e andate a sedervi laggiù dove vedete quei cuscini rossi Pronti? Uno, due, tre! Applauso! Ma che meraviglia! Direttrice, prego Sabrina Al centro della scena Allora, prego, prego Al centro della scena Allora, cari bambini Chiara, chi è? Microfono a Chiara per parlare Ce l'hai? È per cantare o per parlare quel microfono? Giulio? È per parlare? Si può parlare da quel microfono? Ok Chiara, quanti anni hai? Undici Undici E da quanto tempo sei nel coro dell'Antoniano? Sette anni Sette anni? Una veterana Ma scusami E qual è la prima canzoncina che hai cantato con il coro dell'Antoniano? Allora Te la ricordi? Ehm No Una delle prime? Ehm Quel bulletto del carciofo Come fa? Il carciofo che dice Al ravanello Testa di rapa Stupendo È un bulletto Allora Chi è Gaia di voi? Gaia! Allora Gaia Quanti anni hai? Otto Otto Da quanto tempo canti nel coro? Due anni Due anni Ti ricordi una delle prime canzoncine che hai imparato? Una delle prime? O quella che ti piace di più? Clap Clap E come fa Clap Clap? Un clap a me Due clap a te Fai un bel applauso a chiunque intorno c'è Due clap a voi Due clap a noi Fai un bel applauso ogni volta che lo vuoi Mamma mia Che talento Allora Marica 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 Eccola qui Marica Quanti anni hai? Undici Undici Da quanto tempo sei nel coro? Tre anni e mezzo Tre anni e mezzo Una delle canzoncine preferite? Ehm Il pesce cane Però non c'ero E come fa? Anche se non c'eri Come fa? Se hai preferita va bene Io conosco un pesce cane Poco pesce Molto cane Che volevo E fare il bagno Coi pulcini Nello stagno E aspettare Che i bambini Poi li facciano I grattini Poi no Marica Marica Allora Chi è Nicola di voi? Eccolo qua Nicola Un microfono a Nicola Nicola Quanti anni hai? Undici Undici Da quanto tempo sei nel coro? Come Marica Tre Quattro anni Tre quattro anni C'è una canzoncina tua del cuore? Ehm Sì Quella che ho cantato per prima Quasi Che è Scodinzolo Come fa? Sarà per questo che lo chiamo Scodinzolo Lui non è un cane da pesca Non è un cane da caccia Quando salta su due zampe Scodinzola Bravissimo Dov'è Noa? Dov'è Noa? Eccola Noa Ciao Noa Quanti anni hai? Sette Sette E da quanto tempo sei nel coro? Te lo ricordi? No Quanto sarà? Un paio d'anni? Un annetto? Sì Però praticamente Due anni che Ha cantato veramente Negli ultimi 5-6 mesi Mamma mia C'è una canzoncina Che ti piace tanto tanto Di quelle che canti? Proprio la preferita Pensaci Noi è molto riflessiva Noi aspettiamo È così raro riflettere Ci sta insegnando qualcosa Forza Gesù Forza Gesù Come fa? Forza Gesù Non ti preoccupare Se il mondo non è bello Visto là lassù Con il tuo amore Si può sognare E avere un po' di paradiso Qua giù Mamma mia No Mamma mia No Camilla Dov'è? Ecco Camilla Ho un microfono a Camilla Camilla quanti anni hai? Undici Undici A me le domande le conosci Da quanto tempo Sei nel coro dell'Antoniano? Anch'io 3-4 anni Qual è la tua canzoncina del cuore? Salutare 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 salutare? Me la fai sentire? Si sente un cinguettio Da quel ramo lassù Proprio come fosse un orologio a cucù È un uccellino Ciao Come va? Bene Allora quanti anni hai? Sette Sette Da quanto tempo sei nel coro secondo te? Te lo ricordi? No No Non fa niente C'è una canzoncina che ti piace tanto tanto? Anche a me Forza Gesù E fammela sentire Forza Gesù Non ti preoccupare Se il mondo non è bello Visto da lassù Con il tuo amore Si può sognare E avere un po' di paradiso Qua giù Qua giù Bravissima Che brava Vittoria E Violante Dov'è Violante? Ecco Violante Violante quanti anni hai? Undici Undici? Da quanto tempo sei nel coro? Sette anni e mezzo Come è chiara Ammazza Sette anni e mezzo? Sì Mediterranea Canzoncina del cuore? Quel bulletto del carciofo Me la rifai anche tu? Aspetta E vai aspettiamo Il carciofo che dice Al ravanello Testa di rapa Sei molto grossa Tonda patata La zucchina La zucchina Vabbè La zucchina Allora Bravissima Violante Emiliano chi è? Eccolo laggiù Emiliano Quanti anni hai? Otto Otto Ti ricordi da quanto tempo sei nel coro? Due Due anni? Beh già è tanto eh E c'è una canzoncina che ti piace più delle altre? Ogni volta che E come fa? Ogni volta che La rana dice Qua Rispondono le papere Qua 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 Stupendo E lui è Emiliano Se non sbaglio Ho fatto parlare tutti Tranne Raul Ho detto una stupidaggine Avete parlato tutti? Cioè manca Raul Eta 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 Quanti anni hai? Sette Sette Ti ricordi da quanto tempo sei nel coro? Un annetto Un annetto Canzoncina preferita? Potevo Potevo nascere gattino Potevo nascere gattino Come fa? Potevo nascere gattino Morbidoso e piccolino Marti di accarezzare Giocare Mangiare E sonnecchiare Qua e là Qua e là Qua e là Bravola Ma è bravissimo Allora Allora Ma siete proprio bravissimi Allora cari bambini Succede questo Voi avete Un grande privilegio Avete accanto a voi Questa signora Incredibilmente dolce E bravissima Piena di pazienza Di amore Di rispetto Nei vostri confronti Che si prende cura di voi Sabrina Da quanto tempo? Anche a me chiedi Da quanti anni Io canto nel coro Da 27 anni 27 anni Ma qual è la tua canzoncina preferita? La mia Che non ti canterò Perché non ricordo bene le paroline È la sveglia birichina Dai un pezzetto La conoscete la sveglia birichina? Vai dai fammela sentire Sveglia birichina Trillando ogni mattina D'accordo col galletto Mi butta giù dal letto Prima volta che canto in assoluto Te lo dico È un successo Adoro In esclusiva In esclusiva In trasmissione Di solito canto sempre Con i bambini Questo è evidente Allora Siamo nella seconda sfida Bambini Sapete questo è un programma In cui si confrontano due generazioni Da quella parte ci sono ragazzi Tra i 18 e i 25 anni Che fanno parte della generazione Z Da quell'altra Ci sono i boomer Sono signori e signore Che hanno un'età compresa Tra i 55 In su Allora Noi abbiamo due concorrenti di oggi Che sono quella ragazza laggiù Che si chiama Stella Flamini Che è la concorrente della generazione Z E poi abbiamo la signora Raffaella Ruzzini Che è concorrente della generazione boomer Loro hanno realizzato un reel Sapete cos'è un reel? Brava Parla subito Che cos'è un reel? È una specie di video abbastanza corto La migliore spiegazione mai sentita di un reel È una specie di video abbastanza corto Bravissima Tieni pure il microfono Allora Sarà la vostra direttrice A decidere A chi andranno i 40 punti Di questa sfida Basandosi Sul tuo piacere personale Quale video secondo te Coglie maggiormente Il tema Coro dell'Antoniano Vediamo il primo Posso chiedere anche ai bambini Cioè puoi fare quello Mamma non mi devi disturbare Hai capito? Adesso mi metto a sentire un po' di musica Se me lo chiedete per favore Il segreto io vi svelerò Ma sì Ma dai E dicelo anche a noi Sono le tagliatelle di Nonna Plina Un pieno di energia Effetto vitamina Mangiate calme Il reel video di Stella Flavini Concorrente della Generazione Z Vediamo quello Di Raffaella Ruzzini Concorrente della Generazione Boomer Nonna ma chi era Maiale Ventre? Bianca Maria Elio è in cielo Ma per tanti anni Sarà quasi una mamma Per tanti bambini Che grazie a lei Hanno imparato a cantare Ad amare E a vivere in armonia Lei era la direttrice Del piccolo coro Dell'Antoniano di Bologna Nel quale si formavano I cantanti I piccoli cantanti Dello zecchino d'oro Che poi entravano A far parte del piccolo coro Qualche anno dopo È arrivata Sabrina Simoni Giovane direttrice di coro Da affiancare Mariele è malata Mariele dopo due anni È salita in cielo E ora è Sabrina È la direttrice Del piccolo coro Mariele Ventre Dell'Antoniano di Bologna E accompagna i bambini A fare tutte le manifestazioni Legate allo zecchino d'oro Donna ascoltiamo Il po' dopo gli anni Che ha vinto Lo zecchino d'oro Ma certo Che lo canta la piccola Maria Paola Dai ora lo mettiamo C'era un panda Dentro una foresta Si reggiosse con l'aria Un po' caffa Non amava parlare con gli altri E raramente voleva far festa Questo è il reel Di Raffaella Luzzini Allora direttrice Qual è il video più divertente Sono entrambi belli Sì Però il regolamento prevede Un video Dobbiamo per forza Non dovete suggerire Allora Devono essere autonomi Quale vi è piaciuto di più Ecco C'è un piccolo sondaggio Te stella Te Stella Stella Dipende Uno è la più La simpatia E l'altro Quello più simpatico Stella Quindi tre stella Stella quattro Squadra blu Squadra Come qua Blu No I boomer I boomer Ha un voto per i boomer Quindi quattro a uno qua Di qua Quindi cinque per stella Pareggio Ah pareggio E qua non si può fare però Il regolamento non lo prevede Dai in simpatia Stella o Raffaella A dire la verità Diciamo questo Che stella Ha colto perfettamente Quello che in realtà Non vediamo Quando Violante A casa E con Secondo me Quelle catene Violante Ogni tanto Le indossi per usci Allora se ho capito bene Nel senso Ha colto lo spirito Anche dei più grandini Però La squadra Invece Capitanata Da Raffaella Ha colto la coralità Cioè ha fatto un racconto Più globale Del coro Di Alcuni anni fa Del coro Di oggi E anche Del più attuale Cioè quello che ha vinto Perché abbiamo visto anche Il panda con le ali Che è il coro Appunto Il 65esimo Zecchino d'oro Appena segnato Sei stata bravissima A dare Mi sento di dire Che Che La coralità Che deve essere rappresentata Nel modo più efficace Più chiaro Raffaella Aspetta un attimo però Perché qua Io devo sentire anche gli altri Eh sì Non bisogna Cinque bambini sono per Stella Eh no Lei è indecisa E vabbè Voi Stella Stella e siamo a sei Quindi la maggioranza Raul Raffaella Due voti per Raffaella E poi Tre voti per Raffaella Sei voti per Stella E un'indecisa La direttrice a questo punto che fa? Vince la maggioranza O no? È Raffaella Eh no Raffaella ha tre voti Stella ce ne ha sei E allora vince la maggioranza Ma io pure sempre voto Raffaella E quindi siete quattro con Raffaella E in sei con Stella E una indecisa Eh 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 Vince la maggioranza Perché noi siamo in una democrazia E quindi i 40 punti Vanno a Stella Allora Florini Domenico E stuccia Allora Aggiorniamo la classifica Parità Stella 40 punti Raffaella 40 punti Fondamentali punti Quindi c'è una parità La differenza La faranno i 20 punti bonus Che arriveranno in conclusione Di puntata della Grande Bella Ma Ma io ho una notizia da darvi Perché questa signora qua Ci ha suggerito una cosa da fare Niente niente male Allora Cari amici a casa Nel 2003 Una bimba Di 5 anni Cantava questa canzone Allo Zecchino d'Oro Sono le tagliatelle Di nonna fina Pieno di energia E fatto vitamina Magliate calde Bola bu Bola bu Si fanno al pieno Per sei giorni Anche più Perché le tagliatelle Di nonna fina Sono molto più efficaci Di ogni medicina Questa zonara Tanto ce ne credi a me Sono buona Il San Martino A posto del caffè Yeah! La situazione è grave E anche i miei amici Sono tutti un po' Fatti per il trappo lavorare Il tempo pieno a scuola Non lo vogliamo fare Vogliamo stare con mamma e papà Ma in canto mi hanno scritto Anche un porto di kung fu Dando loro la buca Fra chitarra e ciclo È veramente troppo Io non ce la faccio più Mi salvo una ricarica Per tirarmi su Ma un sistema rapido Infaldibile Geniale Fortunatamente io ce l'ho Allora Allora Questa bambina Si chiamava Ottavia Dorucci Allora bambini Era il 2003 E aveva 5 anni Noi siamo appena entrati Nel 2020 20 23 Quanti anni sono passati? 20 anni 20 anni Se ne aveva 5 nel 2003 Adesso quanti ne ha? 25 Secondo voi Secondo voi Sarà ancora in grado Di cantarla questa canzone? Sì La vogliamo chiamare? Sì Dopo 20 anni Dallo Zecchino d'Oro Ottavia Dorucci Eccola qui Ciao Ottavia Benvenuta Benvenuta Ottavia Dorucci Allora Ottavia Sono passati 20 anni Eh sì 20 Questo è per cantare Che effetto ti fa Vedere I bambini Di oggi Cantare ancora Lo Zecchino d'Oro Beh sono bellissimi Come erano bellissimi Anche i bambini Del coro Quando io Ho partecipato Allo Zecchino d'Oro Sabrina è sempre più bella È sempre più brava Perché era la tua Era la mia Sì Lei ha diretto Me Durante quella Quell'edizione Quindi Adesso cosa fai nella vita? Adesso Faccio un dottorato di ricerca Che bello In cosa? In management a Bologna Però comunque Lavoro ancora un po' Nei teatri Quindi Mi piace tanto Stare lì Ti sono sinceramente grato Sul suggerimento Della direttrice Di Sabrina Di aver accettato Questo invito Perché è una bellissima cosa Cantare dopo vent'anni Una canzoncina Portata al successo Allo Zecchino d'Oro Quindi io ti presento così Con le tagliatelle Di Nonna Pina Vent'anni dopo La sua prima esibizione Allo Zecchino d'Oro Torna In TV Ottavia Dorucci La sveglia sta suonando Ma fatela tacere Perché ne andare a scuola Proprio voglia Non ne ho Alzarsi così Prezzo Non ne puoi salutare Ragazzi Primo o poi Mi ammalerò Invece Oltre la scuola Cento cose Devo far L'inglese Ballavolo E perfino Latin dance E a fine settimana Non ne posso Proprio più Mi serve una ricarica Per tirarmi su Ma un sistema rapido E infallibile E geniale Fortunatamente Io ce l'ho Se me lo chiedete Per favore Il segreto Io vi svelerò Ma sì Ma dai Non ti c'erano Che a noi Sono le tagliatelle Di Nonna Pina Un pieno di energia Effetto vitamina Mangiate calde Con ragù Con ragù Mi vanno il pieno Per sei giorni E anche più Perché le tagliatelle Di Nonna Pina Sono molto più efficaci Di ogni medicina Sensazionale A pranzo Ce ne credi a me Sono buona Anche al mattino Al posto Del caffè La situazione è grave E anche i miei amici Sono tutti un po' stressati Per il troppo lavorare Il tempo pieno a scuola Non lo vogliamo fare Vogliamo star con mamma e papà Ma intanto mi hanno iscritto Anche un corso di Kung Fu Sfruttando l'ora a buca Fra chitarra e ciclo cross È veramente troppo Io non ce la faccio più Mi serve una ricarica Per tirarmi su Ma un sistema rapido Infallibile e geniale Fortunatamente io ce l'ho Se me lo chiedete per favore Il segreto io vi spelerò Ma sì, ma no E ti ce l'ho anche a voi Sono le tagliatelle di Nonna Pina Un pieno di energia E il petto vitamina Mangiate calde E il corragù Mi fanno pieno Per sei giorni E anche più Perché le tagliatelle di Nonna Pina Sono molto più efficaci Di ogni medicina E allora forza dai Ma che problema c'è Ci pensa Nonna Pina A toglierti lo stress Ottavia Dorucci Vent'anni dopo Bravissima